Questa sera abbiamo avuto anche il grande piacere di avere ospiti qua in Pere, responsabile regionale del basket, il dottor Bennati, che ringrazio per essere venuto nella nostra provincia, è una persona molto importante per tutto il movimento cestistico Ligure, che tanto sta facendo, sono anni che lavora e direi che quest'anno si incominciano a vedere dei risultati importanti o sbaglio? Per noi questa è un'occasione sicuramente importante perché ha visto premiata un'eralta che sta crescendo molto bene nella provincia d'Imperia, quindi basket Imperia, grazie al presidente Parodi, i tecnici Carlo Risso, Jacopo Arrobbio, sono eccellenze da punta tecnico molto importanti, quindi l'auspicio e l'augurio è che questi ragazzi che possano sempre andare avanti, progredire, migliorare, poi avere una prima squadra che possa ambire ulteriormente a qualificare il territorio dell'Imperies. Grazie. Grazie.